Il 2022 è alle spalle. Doveva essere l'anno della rinascita, dopo quasi 24 mesi di pandemia, ma non lo è stato. È stato un altro anno di resistenza e resilienza. Dal covid alla guerra un attimo, in un flurruccio di sofferenza di un mondo che fa fatica a rinascere. Oggi siamo qui, a confrontarci con conflitti internazionali e crisi economiche che spaventano e riavvicinano a parole che sembravano dimenticate. Ma il 2022, per noi di Gazzetta del Sud e del Gruppo SES, è stato anche l'anno dei nostri primi 70 anni. Realtà solita, indipendente e libera, le parole che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ci ha regalato il 13 aprile a Messina in occasione del nostro compleanno e del premio Bonino Puleio. Frasi che riempiono d'orgoglio tutti coloro che in questi decenni hanno dato il loro piccolo grande contributo alla missione di un'azienda che rappresenta una ricchezza per il sistema informativo italiano. Tutti, nessuno escluso, perché la Gazzetta è il volto, il cuore, le mani di chi ha lavorato e lavora ogni giorno a qualcosa di più di un semplice giornale. La Gazzetta compie 70 anni manifestando ogni giorno un legame che la rende protagonista nel rapporto con le comunità dei territori cui si rivolge, ha aggiunto Mattarella. Presidio di democrazia e di partecipazione, ha concluso il Presidente. Gazzetta del Sud da sette decenni unisce la Sicilia e la Calabria. Noi, il ponte sullo stretto, lo abbiamo costruito da tempo, indicando la strada. E siamo qui a raccogliere le nuove sfide. Nessuna paura. 70 anni, ma continuiamo a crescere. Il quotidiano cartaceo in un panorama di crisi editoriale complessa resta presidio di informazione ed è pronto a un progetto grafico e contenutistico che sarà una sorpresa per i nostri lettori. Il sito in due anni ha scalato le classifiche dell'informazione digitale con un tredicesimo posto in Italia nei mesi scorsi che è orgoglio di tutti e per tutti. E adesso si prepara a indossare una nuova veste griffata 2023. RTP è una presenza costante nelle case dei messinesi. Noi Magazine, il nostro legame indissolubile con le scuole. E il Centro Stampa di Messina da stasera accoglierà Corriere della Sera e Gazzetta dello Sport, che si uniscono agli altri quotidiani che girano nelle nostre rotative. Siamo qui. Rappresentiamo queste terre e ciò che di sano c'è. Buon 2023. Grazie a tutti.